ciao amici e amiche benvenuti mitici e mitiche un nuovo episodio di brave land andiamo avanti che stavamo andando avanti con la maga del ghiaccio il secondo capitolo il secondo capitolo del gioco allora andiamo giù dal draghetto guardate dei veri goblin li avevo visti solo nei libri prima che dementi pestatelli e frugate nelle loro tasche e allora il contrario mi scordo sempre se bisogna essere così scorbutici adesso li smazzoliamo di botte un gabbino molto valoroso ah è proprio ok sì beh ma avevo già fatto tutto il tutorial di quell'altro proprio si riparte da zero ok ah ok ah il goblin quando ok perfetto sconfitto è stata dura ma visto che con eroi di calibro stai viaggiando mi hanno raccomandato le vostre gesta è successo solo una volta oh 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 questo un strano forziere interessante apriamolo certo un apprendista dell'accademia ah come sei stato fino a qui c'è dentro un tipo c'era detto e questo che cosa fa scusa dicono che mio fratello abbia servito con un malo ricorso al re malvagio ma nel numero è scomparso il guerriero il villaggio che li ha sconfitti entrambi baggianati e non credo una sola parola oh 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 ah no ok fatturiamo queste terre catturiamo criminali i goblin hanno staccato molto notando da qui non erano niente stiamo cercando i professionisti che hanno distrutto il nostro campo allora dai unisciti a noi a un vero arciere perfetto lui è Barney non preoccupatevi colbiene cinghie due metri di distanza perché è un la serie di distanza del campo ora vi indicheremo quello che avete fatto allora dopo aver preso la malapena tirare è diventato un birbante vai bravissima ai 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 al cagnolotto perfetto grande ecco il nostro campo con le frecce di magno possiamo urlare ai tempi grave pericolo adesso sembrava il momento giusto gli arcieri hanno ricevuto abilità frecce di gelo grande fatemi avanti mortali una creatura misteriosa ok quadrato e via bam allora ok chiaramente si deve caricare aia paura si allontana aia bravissima aiaiai paura 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 Marco Drums non ne ha aiaiai questi potenti spettinano poi sicuramente per caso ne abbiamo un'idea pensiamo solo a colpire il bersaglio dobbiamo raggiungere la grande biblioteca lo prima possibile che iniziate attraverso le vostre foreste siamo solo di passaggio preoccupatevi eh sì non preoccupatevi guarda qua aiai 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 povero cagnardino aiai 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 lontano scusa certo ovviamente la pallina potevi a2 oh eroe squadra talenti Uh, bello! Bello! Ma questo è un malocchio. Appena abbiamo deciso di tagliare il cimitero, non preoccuparti, abbiamo passato noi gli spettri. Eh sì. Ah, tre fabbri. Ah, questi sono gli stessi dell'altro mondo. Chiaramente è sempre lo stesso mondo, quindi ci sta. Ah, lo sapevo. Ah, che balordo. Ah, no, ammazzatemi la cera, eh. Ok, andiamo dietro a prenderli adesso, raga. Adesso devo andare avanti. Caspita! Ok. Vado in mezzo così posso prenderli tutti. Oh, stupidone. Ah, due ne ha lui. Oh, ok. E distruggiamolo! Ah, ah. Nessuna perdita. Ah, una miniera! Ah, con molti banditi. No, no, forse... Forse è meglio di no. Finalmente caprici di fare tutto il montaggio. Ora è possibile rinunirsi. Nuova ericola te. Oh! Quanto soldi ho! Ok. Attenti, sta arrivando una valanga. Oh! Caspita! Vado a destra o a sinistra. Vado a destra o a sinistra. Cagnolini! Lupi! Lupi, lupi, lupi! Pam! Ghiaccio col ghiaccio. Non credo che sia... E' stata proprio un'idea spettacolare. Aia! 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 bam e adesso siamo siamo a 2 però a 2 ha dovuto rifocillarli eh o mantello ok andiamo su di qua arrivi giusto in tempo hanno appena portato i libri di testo per i corsi dei primi anni raccomandata non è stato supremo comunque fate attenzione quando passate per la foresta i mobili della zona sono molti primolosi non c'è i soldi per saperlo altri spettri dai a potere magici ok abbiamo un po' ghiacciato ai ai porca venti di paura bravissimo aia ah non va qua aia c'è nulla e vai nessuna perdita questo è il mio fucile nel deserto siamo pronti ad aiutarvi con le nostre imprese come giustizia a proposito nostri noi vi fa abbiamo un martelli con proprietà magica avrete fortuna con lo scontro dobbiamo aspettare un attimo no? forse quali erano punti di talento? ma se me lo mettono qua possibile raga che... ahiii bottino guarda dovrebbe essere abbastanza non credo che... che ho fatto tutto e due il mio scello eh? ok vedi? che l'altra volta mi ho dimenticato nel primo e non ho preso i... cioè vedi? che l'altra volta mi ho dimenticato nel primo e non ho preso i... Pensavo che me lo dava automatico, invece no. Invece bisogna proprio andare sul forziere e aprirlo. Sbam! C'è sempre il coso rosso, eh? Sì, l'arcela mi serve, forse questo è forte, eh? Eh sì, fatti. L'amico è molto potente. Tornate dalla biblioteca, ma dovete fermarmi. Ma no, non passate. Non eccede nessun lavoro. Mercenario, Gilda Sassini, addirittura. Occhio per occhio, dente per dente. Eh eh eh. Esatto. Bam. C'è chi va? Oh. Cosa il velino, eh? Oh. C'è chi va? bello dire vabbè, però sei stato bravissimo proprio ok il nuovo arco ragazzi, allora dai ecco la ciele ahia cattiva ok, uno andiamo wow, puxo di bam due pezzi questo poter sarebbe attacco, si ok da qui non passate diciamo che avrei bisogno più che altro prima di comprare tutto forse eh, con 57 questo qui secondo me ho molto arrabbiato il più spietato abitante degli altopiani ah no ho capito cosa fa ma no ahia ahia Ok, così lo prendiamo in due. Ok. No, lo devo provare. Diplomatica. Oh, figlia mia. Ma recupererei i libri. Oh, bella. Potrei comprarla, ma ho bisogno di gente prima. 8, 8, 6, 6, eh? Orca, dovevo comprare anche quella roba lì, eh? Ma questo cosa fa? Ogni volta c'è qualcosa di nuovo? Oh, ma il cassone non c'è più. Quindi, per quale motivo entrare? E' già entrata. Ok, prendiamo l'arciere. Ah, una bella freccia. È scelta la freccia. Ma non fa tempo. Ammazziamo prima. Ah, da solo i soldini. Beh, però, sinceramente, ah, ok. Dannazione, poi nemmeno di rubare la biblioteca. Dannazione. Dannazione. Ok. Oh. ecco cosa dà oh poi ecco devo assolutamente ricordarmi di prendere prima il cassone ok ah la selezioni la fai ok ho capito capito oh allora no andiamo qui scheggia e 5 su 5 bella mi piace comprare tutto ma è una raga cavaliere di ghiaccio ok niente se mi dice che è molto più potente molto più potente proprio stiamo provando a meditare i monaci questo tempio è abbandonato un vero santuario nessuno ha permesso di rientrare oh con i lupi ci sta allora ok poi qui che cosa fa ah da le botte di kung fu questo mi sembra bello tosso eh ecco il cane guarda guarda kung fu e uno è andato e uno è andato ok io per esempio I soldi! Eh, quello è dato? Ah, mi ha dato la morte! No, c'era quello lì! Non l'avevo mica visto, raga! Mielu, un bel po' di! Oggi, una bocca si riaperti! Oggi, un bel po' di! Mielu, un bel po' di! Un bel po' di! vediamo lì, è questa ok oh abbiamo fatto la neve, bellissimo andiamo contro questo cattivone allora aia paura hmm ma parecchi eh ok e uno vai, che cos'è questo? doppio danno? oh gaspita no 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 ok ok oh no 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 non no non dovresti entrare eh infatti huh … Ah! Paura e questo è il vostro posto che non è ok vai arriva l'altro e con il mitico farciere farciera ce la facciamo ma te c'è monarca e te lo ipociti ma l'occhio va ok in realtà non ho capito che cos'è quel potere lì però vabbè guardalo i soldi sono soldi raga i soldi sono soldi raga i soldi i soldi i soldi i soldi i soldi No, e vai, e vai. Qui deve essere qualcuno, un miracolo abbiamo veramente portato da avere la nostra regione. E' vero, bisogna di molti soldi. Arca. Ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, cerchio. Ok, torcia da mago. Pensavo di aver preso in un coso anche. Però no. Allora, vediamo un attimo se si può fare Ah, si può fare, si può fare, si può fare, si può fare. Grazie. ah che figo ma l'avevo fatto quel quadrato lì ah che serio in quattro per facciare un cane sfidiamolo in quattro per facciare un cane ecco cosa stavo proteggendo questa è una statua di un sovrano antico sembra incredibile a quanto pare portato a paziente con la spada di ghiaccio wow ha cambiato aspetto siamo belli potenziati vediamo di fare il pezzettino qui e poi ci vediamo al prossimo video dai 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 grazie a tutti ai 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 beh questo che l'ho ammazzato mi è piaciuto grazie a tutti da lontano wow che legnato perfetto e qui chi sei vi conosci il futuro fai bene vuoi ascoltare la profezia per 200 monete ok persone non mi trasmettono messaggi migliaia di antichi ma questo futuro è troppo lontano vedo che completi la tua missione spirito maledetto spirito maledetta tendono i pericoli futuro sembra il posco vabbè però mi ha dato qualcosa ok ragazzi qui al prossimo andiamo avanti col punto di domanda mi raccomando di seguire marco drums game channel su youtube facebook twitter instagram tiktok twitch live fichissimo su twitch tanti video su youtube e mi raccomando i social discord per poter parlare insieme facebook twitter instagram e tiktok per tutto il resto per essere sempre in contatto con marco dronsini ciao ragazzi al prossimo questo gioco fighissimo ciao amici ciao amici